easy gamer time to play ciao a tutti ragazzi da easy gamer 89 ben ritrovati sul mio canale con un nuovo video subito in compagnia di lili ciao è venuta qui a barro trovarmi ciao paul benvenuto paulino cambiate nome oli roschino detto paul il buon vecchio valle gaming ciao super franci gross benvenuto ecco viene un po più qui amore abbiamo fatto finta come al solito di essere da solo e invece guardate un pochino che portati ciao ciao come state raga tutto bene ti avete mangiato faccio come lui vi denunzio ma no paolo perché mai siamo così felici insieme noi siamo bravi ragazzi siamo bravi noi ora non so comincio già a dire che la challenge non mi riuscirà perché ogni volta che giochiamo tra di noi ci emozioniamo e giochiamo malissimo noi ci proviamo però eventualmente se la challenge dovesse fallire più volte mają쳐 tombre del 2 no si devi giocare a 2 mezzo al 2 no no faccio schifo faccio schifo sei troppo bravo no ma come no dai vedremo secondo me Andrea è benissimo lo spero guarda magari riesce alla challenge una volta per tutte ci voleva la tua compagnia probabilmente si forse vabbè io ce la metterò tutta naturalmente poi vedremo poi poi sta diventando una piccola verresina anche lei comunque mi stai contagia per forza però non mi fai dire lo scegli vuoi dire lo scegli lingua? no ho detto non me lo fai dire no ho detto non me lo fai dire ah non te lo faccio dire lo vuoi dire tu direttamente? no 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 cingera maschi no non te lo dico no cingera maschi chiamanella no allora se ce la fai a fare la challenge allora te lo dico mi devo impegnare esatto vabbè io ce la metterò tutta vediamo un po' quello è il premio è un bacio è un bacio eh quello me lo dai anche prima no è una ragazza fantastica sono troppo fortunata siete belli ma grazie Paul grazie siamo troppo felici insieme ora appena arriverà anche Iole ti dirà oh i colombini Iole dove sei? vogliamo vedere la tua lezione ecco eccola qui ma siete insieme questo l'abbiamo chiamata ciao Iole ciao benvenuta siamo finalmente insieme ahio non tiratele la testolina con le cuffie con le cuffie gigante che sorpresa infatti visto sono apparsa mi sono teletrasportata ciao Lua Azzurda che sorpresa si è troppo bello Iole è arrivata qui il 15 purtroppo domani dovrà ripartire è qui per lavoro quindi comunque siamo stati troppo bene insieme abbiamo passato delle giornate veramente troppo belle si e già sentiamo la mancanza l'uno dell'altro oh come faremo? chi lo sa che meraviglia che meraviglia che siete grazie grazie Iole non aspettavamo altro che questi momenti qui esatto esatto quanto dolci troppo mi faremo morire di diabete conquisteremo il mondo che bellissimo no no però onestamente ragazzi quando c'è il link webcam è anche meglio è vero la like molto meglio dai sicuramente i video aumenteranno di bellezza con te no direi di no no come no ma no dovrei aver rinnovato la sub spero sia tutto ok grazie mille Paul gentilissimo e quindi raga la novità è che non giocherò io giocherò a lei sopra del 1 gold la challenge no scherzo però tu ci giochi un po' di due poi vedremo un pochino vedremo 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 non sono brava no no non sono brava no raga ditele voi se volete vederla giocare dai ma devi farmi fare figure ma che figure tu sei bravissima volevi si si ma lei giocherà dai vedi vogliono che giochi ed è uno che dice già si gioca lili ecco vedi dai giochi quindi a questo punto io direi mi do una sbrigata comincio quando prendere una gold ecco così poi si avanza un po di tempo allora ciao a lei benvenuto allora alle ore dirò tu allora quindi mi raccomando se la challenge riesce e provi a essere di dire una cosa si quando non usciti lingua da dire da dire no va bene ce la metterò tutta ecco qua è l'emozione anche obs se facciano ma siamo stavate anche obs ti chiedono di dove sei comunque di crema ecco perché così dolce quindi stavolta col dick avvio prima il gioco poi metto il cronometro sennò mi rubo un po troppi secondi avvio ecco qua e possiamo cominciare ho lavato la spacca se funziona però ecco qua non funzionerà più il controller grazie tante tutti oggi gli incidenti tu non mi farei danni coccodrillo del dick ma cominciano a essere scostumati premetto che non mi sono neanche allenato recentemente quindi premetto di morire al primo livello non fateci caso raga io ci provo tanto c'è la buone mia quanto a me magari mi porta fortuna ammazziamo soccodrillo per me ogni occasione buona per dare bacini quindi vai a vedere ma lo finisci pure potrebbe essere molte volte l'allenamento è solo un'illusione uno si allena pensa di essere bravo poi in realtà se lo piglia nel tunnel malamente però senza allenamento potrebbe andar vivere speriamo ci va ed eccoci qua ti ricordi cosa facciamo andando qui amore adesso non chiedermi cosa è troppo difficile va bene andiamo a prendere il segreto brava bravo amore mio vedete che è bravissima rinvidia del teletrasporti il mio ragazzo è piemontese quindi sono tanti chilometri indietro 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 anche poi arrivo il codrillo e purtroppo la distanza è brutta raga noi già siamo male perché ci separeremo domani non gioco più basta fine della live raga basta me ne vado magari arrivo lì prima ecco no beh dolcini per immortalati dopo vi passa la foto oh che belli sì perché a testa le fortuna e angelo crediamoci sì 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 assolutamente un bispo di fortuna serve sempre ora schiatta sicuramente e va bene andiamo a raccogliere un po di questo segreto quindi ci stanno punizioni per fucilozzo poi altre punizioni per fucilozzo che ci piacciono evo vieni qua e grazie torniamoci indietro in realtà sta giocando lì raga come vedete più brava di me un'altra vita magari no non è vero io l'ho vista giocare a tomba del 2 più di una volta e cavolo sembrava poi e sali pigliamoci pure quest'altra munizione ha provato angelo infatti pensavo e fanno la live col poco tempo che rimane ma dovevamo farlo assolutamente in realtà lì non voleva all'inizio che diceva no mi va va dirà ansia invece ora si sta divertendo guardate 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 certo comincerà anche lì a fare live poi col suo canale ma che canale ma che canale dai te lo puoi permettere dai dai porti tomb raider 2 solo tomb raider 2 perchè è l'unico colombo che conosco va bene ma bellissimo tomb raider 2 ammazza che tuffo che ho fatto va bene bellissimo tuffo strano ma ma stai imparando da me capito lei è molto spericolata quando gioca raga fa certi numeri pericolosi assolutamente cioè quando vedrete giocare lei direte e noi perchè abbiamo seguito i cgamer tutto questo tempo quando c'è molto molto di meglio infatti ogni volta che giochi io faccio così per come giocavera non mi mangiate non mi mangiate no non mi mangiate aiuto aiuto no non mi mangiate ecco con lei di questa non sarebbe successo mi sono togliato troppa energia però mi mangiate per assaggiare ho mangiato una barretta kinder oh ma bravo paulo che buona le barrette kinder di varie tu preferisci fiorello royce però mi devi ricordare che te lo devo dare col fiorello royce altrimenti prometto più non do dopo voi doишь lo sai che io mi dimentico le coase le coase io mi faccio le squeak oh che bello questo piace anche a te ha contagiato anche a me bene le squeak ma guarda un po' anche alla sera ci beviamo a una delle squeak buoni baci perugina un bacio come questo eh io le capirei che me la sbacciucchia tutta naturalmente allora ma facciamo attenzione qua che arriva la pantera devo fare una cosa veloce 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 buttarmi di sotto non mi fai altri danni volevi troppo poca energia però è troppo poca è troppo poca è troppo poca dai 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 non te la farò mai si che ce la farai vedremo dopo la live dovranno ricoverarmi per vicemi alta dicevamo prima vi faremo ammalare di diabete ecco eccoci qua ci siamo fatti tante passeggettine romantiche vanno nella mano che bello quanto mi mancheranno anche sul mare sul mare ci siamo fatte anche una mangiata da McDonald's però vicino al mare ciao Giuseppe benvenuto McDonald's vista mare che per realtà io ho preso solo delle patatine grandi beh io ho preso il Mc Toast le patatine piccole per tenere insomma per tenermi in forma certamente e ci può salutare quello poi mi guarda male se io faccio la pizza mi guarda così come mi guardi però lì mangia dal Mc mangia il sushi si tratta bene poi io per una pizza che mi faccio ah come si tratta bene una una pizza una una al giorno ecco forse ma che sarà mai una pizzina al giorno togli il medico e gli torna altro che la mela appunto mimba angelo quante pizza te bagli eh poche perché sono a dieta dice sempre così eh tutti i lunedì si vuole mettere a dieta poi non la fa mai non mantieni me la promessa non ho parole dai arriverà quel lunedì magico sì sì sicuramente arriverà vabbè io ho detto di lunedì ma no di che anno quindi eh vabbè io lo dico anch'io vedi eh vabbè vedi vedi diciamo che uno anche se è un po' più in carne è bene felice dai vabbè anch'io sono in carne no tu sei perfetta amore tu sei morbida no io sono grassa no tu sei morbida sono grassa ci bellisci qua no no guarda che male il gioco eh ci bellisci è cocciuto lei no invece raga lei non è cocciuta vabbè ci arriviamo anche per questo dai ma va che soldi eh hai visto ha imparato da te poi ci fai vedere tu come giochi a Tomb Raider 2 dai prevedo figure ecco spero di non schiattare io adesso so cose che capitano capita che va in cucina per bere e succede un padino con mortazza eh esatto proprio così a volte si mangia anche per noia quindi sempre meno energia grande perfetto ora mi preoccupo con i cocodrilli che vedremo tra poco sotto acqua quelli possono essere un piccolo problema dipende un po' dalla fortuna che ci sarà ci sarà fortuna speriamo ho paura di no dai dai ce la puoi fare ce la faremo si si ce la possiamo fare non diamoci per vinti uoè dove stai dai che ti vedo ti vedo e spara dacci sta chiave non ci dà la chiave ma ha capito male proprio ha capisciuto male non ha capisciuto nulla eh piglia grazie Paolo per l'abbonamento grazie mille gentilissimo thank you thank you e la notifica non ti ricordi la notifica thank you dai fallo anche tu no no dai è facile thank you no guarda esce meglio a te no non è vero no vedi si 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 thank you provaci tu no thank you thank you thank you tu dici thank you soltanto praticamente thank you thank you thank you thank you thank you e ciù e ciù e ciù domani ci mangiamo in giornata cioccolato e torci un po' salato dai lo dice buco eh va bene io da casa subito ti chiamo come continua? non lo so rispondimi presto rispondi ti amo le tette cubiche figata chi è che non nota le tette cubiche di Lara? ciao Daniele mangio il caffè lo adoravo ma c'è ancora? io ultimamente vedo sempre solo quello classico in realtà no aspetta 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 io l'ho dimenticato di questo beh eh ti rendi conto no col cavolo salgo prima di là trolliamolo altrimenti questa mi fa danno guarda come sei rimasto là guarda guarda si si ti aspetta eh ha capito male però cibliuffè poi tocca a te amore io faccio questo livello poi giochi tu l'altro dai dai facciamo una live insieme la challenge è un po' per uno sì dai tanto mi hai visto giocarlo tante volte quindi te lo ricordo vabbè ci finirei ci finirei tutto Tom Brady R2 dai io ormai sono ritratto a dover mangiare solo il cornetto al giro ah il giro senza rattorsi quindi il resto non lo guardo proprio che peccato è il tuo gelato preferito amore qual è? la coppa del nonno sei del nonno non puoi mangiartela tu però è del nonno ma è mia ah è del nonno ma è tu come quando io avevo la camice di rino mia madre mi diceva Angelo ti metti la camice di rino no e se di rino perché devo metterla io non mi schiaffeggiava però per queste cose che dicevo quindi masso questa casa aspetta te facciamo fuori il sepantere tanto lo so già dove devo morire adesso quindi io sono andando avanti sono andando avanti poi lo schiatterò mi sono certo venite qua dai che lì deve giocare a tomba der 2 su su ora lui spera che non finirà mai questa live questa challenge no le pistol volevo le pistol vabbè facciamo cambiarmi così dai schiatta fuori una e fuori l'altra dai 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 che non abbiamo tempo dai 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 abbiamo un gioco più bello da vedere giocato da una persona migliore di me dove è andata sta facendo un giro dobbiamo aspettare i suoi porci comodi ma non ha parole non ha parole pronto? eh sì è andata ma arriva domani siamo ancora qua e dai schiatta 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 oh finalmente mo facciamo attenzione perché arrivo un'altra ancora qui via 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 eh mo se ne va come al solito dai farsi vedere farsi vedere io non mi muovo da qui sappio ho poca energia dai dai come on dai schiatta please tanto che aspetti eh infatti ecco qua anche questa parte è andata mo pigliamoci le munizioni pigliamoci queste altre andiamo a nazionare la leva si apre la porta di su e andiamo a morire stavo bussando lo so ah rumori sempre rumori qua ci voleva Raffaella Carrà ho sentito un rumore un rumore altro che un rumore ah toh ciao Luca benvenuto che onore oggi sono in bella compagnia infatti vedete qualcosa di più bello nella grafica e lei oh eccoci qua rapichiamoci guarda no perché ti vergogno niente si vergogna un po' no io non sono per niente timida no non sei timida tu no no perché sei timida così di punti in bianco adesso sei timida eh sì ma come ma vuoi è cambiato qualcosa da quando abbiamo cominciato e tu mi fai troppi complimenti no non è vero te ne faccio anche tra poco pochi io vado di là e lei va di là ma ci decidiamo vabbè aspetta di qua eh sono la persona più paziente del mondo sì me vine dough dai diglielo tu me vine dough no no dai quello è a livello difficile no è un livello difficile no è un livello difficile vine dough no 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 non vuole raga non vuole non vuole far fare figure non lo so dire dai che lo dici in meglio di me ma non lo so dire dai come quando abbiamo sentito litigare quei tipi nell'appartamento dove siamo abbiamo sentito certi urli in mare e se raga ci siamo spessati da ridere quella sera oh siamo andate parolaccia raffiga e vabbè ma come si vogliono bere che bella coppia immagino che meraviglia esatto pura poesia è quella beh me lo ricorderò per sempre sì sì assolutamente io prometto che non sarò ben così però bravo anche perché io sembro calmo e buona poi poi è una che spacca i denti raga devo fare attenzione ecco adesso ho paura di questa parte no dai dai sono già che mi ammazzeranno i cocodrilli i cocodrilli del dick fammi fare danni dai dai sono la sua casserone di lei va please via 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 mi è andato anche fin troppo bene andiamo 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 vada vada non ci incesti tiè ce l'abbiamo fatta sì pensavo di morire qui che bello ah me lo sto qua siamo tranquilli il problema ora sarebbero anche quelle mummie fino di non fare le cacchiate dai schiatta schiatta prima di andartene perfetto l'uze è inutile che vada a prendere perché tanto si trovano poi nel secondo livello mi evito pericoli in più va me l'ha insegnata lì sta cosa qui io mi prendo i meriti che no ok ma sì sì è vero non te l'ho insegnata io lei mi dà consigli e poi tutto quello che sei tu te l'ho insegnata eh appunto lei è la mia maestra sì sì allora ho paura di queste mummie quindi andiamocene di qua perfetto siamo salvi il primo livello è concluso dobbiamo solo uccidere queste pirla qua di mummie queste pirline vedi altro che pulce tu ti la metti di pulce la tua gattina guarda quelle come sono iperattive pulce non è proprio che si sa diciamo è simile dai se supporti me puoi supportare benissimamente pulce dai sì hai ragione eh ecco tre segreti su tre che bello che hanno fatto di un livello andato quindi tre bacini tre segreti tre bacini prego facciamo uno dai un'altra grazie vabbè dai se li meritavo grazie 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 Paolo io so io gli ho discusso è buona qui questo è per voi per buon augurio del secondo livello vabbè pigliamo queste munizioni qui poi pigliamo le munizioni là poi cosa c'era lì amore in quella porta beh adesso non è che mi posso riguardare dai che lo sai c'era il se greto vedi che lo sa sa le cose non le vuole dire ma vabbè ma quando tu giochi io guardo te guardo il gioco ah lei guarda me ma guarda eh certo manco fosse sempre guardato te mica il gioco e quindi e perché gioco quindi eh buh cioè mi fa fare pure giochi difficili poi non guardo il gioco guarda me non sapevo che dire ecco senza parole cosa c'è non riesco a smettere di guardarti eh stiamo per atterrare sulle munizioni direttamente sono soddisfazioni queste basta abbandono la ciale no ti lascio mi hai fatto atterrare sulle munizioni guardate come mi minaccia va va cosa fa va che hai fatto come mi minaccia di lasciarli guardate facciamo fuori queste mummine non è che sta arrivando la pantera tranquillo no non mi tocchi la schiatta non abbiamo tutta la giornata oh finalmente non è andata questo dovrebbe schiattare a breve credo oh finalmente quindi adesso dobbiamo ammazzare pure quella pantera la pantera in nera non quella rosa la panterina no no non è che arriva l'altro di qua no ok schiattita ma spostiamo questo blocco qui che bello spostare il blocco quanto ci piace come al solito a me piace mi ami anche per questo si si assolutamente dove è l'altra eccola altrimenti ci fa prendere gli infarti e non è quello che vogliamo no no ok tra l'altro raga ieri l'ho vista giocare a tour brother 3 pure cioè ha fatto i primi due livelli che è proprio la fine del mondo ha giocato meglio di tutti veramente meglio di tutti noi messi insieme io dicevo amore lì ci sono delle evoluzioni lo so cioè sapeva tutto io mi sentivo inutile sapete quando uno si sente inutile? ecco ero io ieri mentre lì giocavo a tour brother 3 erano belli i tempi in cui le davo consigli eh su che salti fare che oggetti prendere e ormai non conto più niente basta l'allievo ha superato il maestro ecco perché diceva adesso io finirò il gioco e poi giocherà lei metto a vedere due cioè finirò il gioco spero in realtà ce lo leviamo dei maroni so che sarò e diciamo prendere una gold dai che ce la fai sì sì ce la metteremo tutta raccogliamo queste munizioni bravo grazie adesso andiamo a pigliare l'altra chiave ero già andata a prendere le munizioni di sopra mi sa di no ah che brava segretaria che ho che mi ricorda pure beh ti sei ricordato tutte le munizioni eh quindi hai dato conferma hai visto? è importante cosa? tutti oggi sono succedendo vabbè anche l'aria è emozionata per noi amore ah sì che tenero sì ecco qua quindi facciamo attenzione al cocodrillino il cocco il cocco è il cocco di papà lui a posto ucciso azionava di nuovo la leva andiamo a prendere la chiave nara oh la leva eh è difficile beh guarda un po' ma devo attaccarsi alla leva e non lo fa e va bene quindi pigliamo questa cazzarola di chiave adesso dopo tanta fatica andiamo di là e finalmente possiamo aprire quella cazzarola di porta ecco ma comincia a rivedere i cacchi di suo livello comunque finora è tutto tranquillo ma da adesso in poi in poi in poi c'è un gioco di macchia? no ho detto che lo dico solo se riesci vabbè se faccio i primi due livelli puoi dire metà almeno c'è gira macchia ma neve no se poi finisco anche gli altri due dici anche l'altra metà no non fare il furbo bambini ma vuole fare il furbo se vuoi dico che ti amo sì quello sì ti amo anche io ti amo chi amo mi conviene usare adesso il fucile grazie mille grazie per il consiglio io non ho detto niente va tutto lui vabbè io cosa sto parlando ho sentito il fucile io non lo so io ho sentito dire il fucile prima mi vuoi qui e poi non mi lascio dire ma io ho sentito dire il fucile ma ma io buco non ho parola ragazzi non avete sentito anche voi dire il fucile? saranno le cuffie ma io ho sentito ti sto guardando male non ce la fai guardarmi male per più di tre secondi dai eh sicuro l'ha pensato vedi? ciao rovisur non ho sentito nulla maiole come? ciao a tutti buona live grazie mille mi scappa l'urina mi scappa l'urina mi scappa l'urina papà non ce la faccio più io la faccio qui però se non è meglio mi scappa la pipira onestamente comunque ciao mi scappa l'urina che me ne credo ora mi scappa davvero perché l'ho letto mi ha stimolato è una citazione di The Sims na 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 pigliamoci sta chiave bella la chiave ti piace? sì chi ha la chiave? Visto ti piace? è bella ti piace? sì perché? boh è bella quando Bat fa gli scherzi telefonici anche Lily fa gli scherzi telefonici ogni giorno ah ti diverti con poco è vero Lily? fai sempre gli scherzi telefonici tu ah sì sempre eh raccontaci l'ultimo che hai fatto dai no vabbè dai devi dire che non l'abbia fatto uno stesso telefono no grazie per il fallo mi scappa l'urina grazie per il fallo mi scappa l'urina che c'è da ridere di un nickname? mi scappa l'urina scusa voglio vedere se mi scappa anche la cacchino non ho capito non so cosa è naturale le cose le cose è naturale eh appunto la pantera arriva dopo dopo che pigliamo la chiave sono visitati insieme a voi mi scappa l'urina mi scappa la pipì mi scappa la pipì papà non c'è la fosca più mo la fosca in baresa che bello eh potevamo fare la versione vabbè la fai tu la faccio io sì sembravo con le canzoncine intanto io le sto ancora aspettando il disco che dice eh appunto tre chiavi ecco l'altra ciao Lucio benvenuto ma quanto tempo bello rivederti grazie Lucio gentilissimo allora vabbè quella la passo dopo mi ne do mi ne do no se ne è asciutto eh dai quando hai esciuto il cd eh ma prima devo andare a San Revo io ora vabbè dai ti convincerò io a farlo sai che manco mi ricordo io stesso le canzoni che ho fatto come facciamo io mi manderai i titoli delle canzoni che ho fatto tu sicuramente le ricordi meglio di me così ci lavoro su hai detto così hai visto mi sei contagiato non hai detto così così eh mi contagi vedi mi contagi non hai detto così vabbè l'importante è che dico sempre cose cose eh ma anche tu ieri hai detto scums a tavola a tavola a tavola scums quando tornerai a fare nuovi gameplay con nuovi giochi eh lo decidere è colpa mia è colpa mia in realtà se non è molto attivo si si me lo impedisce si si sono io che gli dico non osare mi hai indovagliato e non mi permette di giocare oggi perché sta facendo la live perché c'è lei vicino a me sì ma qua dietro lo sto con una pistola lo sto miacciando è vero è vero il primo singolo è Ponte Polente Ponte Pita Peta Perugia Ponte Polente Ponte Pita Peta Pettino oh yeah no comunque cercherò di fare quanto prima nuovi video mi scappa l'urina e non ridere io lo dico a cosa perché lei si mette a rire dai mi scappa l'urina perché non consente quel commento ho quasi finito di vedere quasi tutti i video su youtube grazie mille mi scappa l'urina ti posso chiamare con un altro nome altrimenti lei si mette a rire e ora non la fermiamo più io devo approvare il commento e dimmi scappa l'urina vabbè e ride guarda che se ridi troppo scappa l'urina anche a te no però ora che ci penso sono quasi un po' invidiosa di questo nickname è un nickname che si ricorda vedi infatti sono contento che vi ricorderete del mio libro non lo dimenticheremo mai ogni volta che andremo a fare il pipì penseremo a lui mi scappa l'urina oh sì tu puoi mettere mi scappa la cacca eh certo sennò c'è il copyright eh beh questo nickname è già preso quindi vabbè perfetto caccoci riderà 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 plin plin parlando di urina scappa la plin plin cos'è la rocchetta che fa fare tanta plin plin sì e la tracca invece che cosa fanno a fare plom plom ah vabbè fa l'effetto comunque non pensavo di creare tutto questo scompio hai visto che è combinato ma scappa l'urina a tutti stiamo tutti ballando mentre giochiamo perché dovevo andare in bagno dai che mi fai cicolare come le porte mettiamo un po' d'olio sulle porte dai niente l'abbiamo persa raga basta basta non ho fatto niente mi ha ricordato l'erata pozzetta delle comiche quando basta pipì basta che non riesce a fermarsi dopo che è bevuto tutta la cascata basta pipì basta il tuo ragazzo ha smesso di funzionare in effetti sali Lara non ti far fare troppi danni no salire salire non mi fate male ecco mi vado a fare una pipì oh poteva andare peggio vai ora sto recuperando la serie di Trasafas parte 2 su youtube ma grazie mille mi scappa mi scappa mi fa molto piacere spero che ti piaccia anche quella ma quel trend indica la durata o la quantità in litri qua la mummia l'avevo più che uccisa però io continuavo a sparare il vento mi scappa l'urina 30 è l'urina numero 30 forse quante volte al giorno fai pipì tu tante tante volte io dalle 5-6 volte credo al giorno voi quante volte al giorno fate pipì raga sono dettagli importanti questi chiediamo sempre cosa avete mangiato cambiamo domanda per non parlare della cacca quante volte andate tu quante volte andate a far la cacca dipende io posso andare da una a tre volte al giorno eh dai anch'io per me anche se molte volte in piccole dosi comunque mi sa che non avevo uccisi i coccodrilli qui e stiamo rischiando la vita la fai a rate la faccio a rate mi scoccio a farla tutta in una volta quindi eh beh certo una sensazione così piacevole ah che bello io solo la mattina ecco eh beh dai è un buon buon giorno alla fine bello che bello come iniziare bene alla giornata magari dopo il caffè ah che bello chi si fa il caffè la sigaretta e va in bagno a fare spazio e poi per altro cibo sì sì che discorsi di M com'è che ci siamo finiti non mi ricordo mi scappa l'urina appunto vedi mi scappa l'urina hai combinato tutto tu eh mi scappa l'urina mi scappa la cacca eh infatti vabbè muardo un po' vabbè andiamo verso quella porta che si è aperta infatti se non vado prima in bagno non posso far nulla è vero eh aumenta la concentrazione andrà di corto che ho detto è la natura io ti sto solo guardando ah non c'è niente mi guardi con quella faccia no no ti guardo perché vedo che ti concentri hai visto mi riesco a concentrarmi anche mentre parliamo di urina cacca cioè che cosa sono proprio cosa sei cosa cosa sei un pir sì beh quello sono un pir onestamente comunque si chiama ti ho scoperto su youtube da solo oh che bello quel gioco e non approvi i commenti l'automod che li blocca ma perché è pirla l'automod proprio recentemente io e Lily ci siamo visti alla saga di So che bello allora facciamo a pezzi questi pirla qui vai schiatta 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 niente attendiamo il prossimo giro tu non mi far danni sappiamo di cosa sei capace ecco fuori una e l'altra hai paura oh perfetto non posso scusate se non scrivo molto sto seguendo il live contemporaneamente ma non preoccuparti Paul figurati fino a che ora penso di continuare su twitch diciamo che dipende già da quando finisco la live qui la challenge e poi ci sarà Lily che giocherà Tomb Raider 2 quindi non sappiamo esattamente l'orario è fissato eh certo quando mi ricapita allora facciamo così se riesci ti dico lo sciogli lingua e gioco se non riesci chiudiamo e basta no no mi piace decidete voi raga volete vedere Lily giocare comunque anche se falliscono nella challenge decidono loro dai decidono loro io credo che diranno di sì assolutamente sì vedi no dovete dire no cioè raga immaginate già il titolo su youtube la mia ragazza che gioca a Tomb Raider 2 e fa schifo sto a pensarci no non fa schifo comunque gioca anche meglio di me vedrete vedrete ma quando mai ti metti in giro voci false non mi guiro non so poi le persone si creano aspettativa le ho anche registrato un gameplay quindi dai che sei brava amore no dove stai dicevo che non è il caso di scendere lì scendiamo di là che bello vedi che non allenarmi che significa è una blind run questa in un certo senso è una blind run per la challenge magari mi riesce davvero stavolta ciao Monica benvenuta sono passata per un saluto ma grazie mille ci fa molto molto piacere ecco qua facciamo scendere il mouse ce ne andiamo di là adesso vediamo di trovare quella pantelina intanto finché arriva qua schiatta malamente no andiamocene ma siete assieme sì Monica visto non è un fotovontaggio siamo qui ma coccoli ecco non caccole vi raccomando coccoli ce l'avete fatta visto come è contenta però Monica diglielo tu domani lei vorrei ripartire tutti i costi io non voglio voglio che rimanga qui no non devi ripartire vabbè no non devi ti sai poi essere in casa dove mi metti? sotto al letto sto a dormire no ti do il mio dormo io per terra dai vabbè ci sto se vuoi farvi spazio no 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 ma guarda non ho parole raga non esagerate con le coccole se no vi auguro di fare tante pipì guarda ce ne facciamo talmente tante che ovviamente ce le facciamo addosso davvero che ci scaccia andare in bagno comunque sono dovuta venire qua per lavoro e poi ne ho approfittato ho fatto una scappata una scappata non di pipì esatto e neanche di cacca neanche di cacca approfittando della questione del lavoro è venuta qui si ho avuto questa fortuna avrai altri lavori da fare qui ma speriamo chiederò chiederò chiedi assolutamente chiedi chiedi altrimenti minaccio il tuo boss di farti venire più spesso qui beh anzi pago io il boss per farmi venire qua spero sia stato almeno qualche giorno sì sì assolutamente dal 15 fino a domani sera è già arrivato troppo presto però eh non lo so mi dispiace stavo male tu fatti uccidere intanto eh già stavo male per i fatti nostri vabbè facciamo il giro uh no aiuto c'è un altro coccodrillo e chi se lo ricordava? beh magari se ti supportiamo fai soldi per raggiungere la tua ragazza lo vuoi uccidere? sa buono vabbè fortuna avevo ucciso quello in acqua vabbè raga dai un 100.000 euro mi basterebbe ci compriamo un appartamentino sì infatti ce la possiamo fare dai ce la possiamo fare facciamo la colletta qua ah sì dai sogliere non costa niente comunque la challenge per il momento sta andando Monica torno dopo spero di ritrovarla assolutamente sì perché anche lei giocherò a Tomb Raider 2 tu che non la sei ancora eh certamente super felice di avervi visto grazie Monica grazie gentilissima a dopo ciao ciao aglio che botta capocciata le capocciate le ho imparate da Lilia che lei ne dà tanti in Tomb Raider 2 vedi come poi mi sfotteremo e io dico ma boh è un prendere in giro affettuosa come fai tu sì chi ah sì però quando lei mi prende in giro per l'occhio usa e prendere in giro affettuosamente sì ma a me piace ti piace l'accento pugliese l'accento pugliese dai dai cingera ma sì te l'ho detto te lo dirò solo se ce la farai oh sì eh impegnati eh mi impegno mi impegno però poi devi dirlo davvero lo dirò te lo giuro su chi lo giuri su di te vabbè comunque qualcuno in cui credi ah beh dai a lui qui ci possiamo fidare va bene raga mi impegnerò al massimo per riuscirci eh bravo se no ti piaccio ti ho sentito corriamo verso la stanza del segreto via 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 ok appena ho visto la stanza del su instagram sono corso grazie mille mi scappa l'urina mi fa piacere mi fa piacere basta mi scappa l'urina eh ci si re come faccio adesso con ciarsi re eh non si può non si può ciao charsi mi stai seguendo l'amante charsi re no non è del mio sito charsi se mi stai guardando comunque non posso darti ora il codice comunque perché devo aprire le mail è un po' un casino un casino è un casino è un casino comunque grazie mille di essere qui mi fa molto piacere no è un casino perché non è un casino un casino è un casino no un casino non un casino no casino è meglio avete visto come mi prendi in giro raga non ti so prendere in giro eh intanto che spingi ah mi prendi in giro mentre sposti pro occhi no non in avanti visto che fa tirare non spingere è meglio come dici Seagreber anch'io sono pugliese sentito? ma è una gioia eh bravissimo bravissimo mi scappa l'urina talmente contento che ora mi scappa l'urina davvero vado basta vi state coalizzando contro di me no è solo per dirti che casino è la versione giusta vabbè allora dirò casino che bello è un casino è un casino il pugliese è una lingua straniera è vero è vero io sono di Manfredonia qualche altro pugliese qui da queste parti a parte Lili sai dov'è? io sono asino in geografia Sallo ah sì no un somaro un somaro un somaro diciamo anche noi somaro un somaro ah sul gargano ah ecco beh allora più o meno dove stava mio nonno allora dove stava mio nonno no devi gridare di più dove stava mio nonno? ok sul gargano ecco mio nonno era pugliese ah vedi che bello infatti suo padre è fiero di me raga dovresti vederci quando stiamo in videochiamata che suo padre viene si mette a parlare in diretto pugliese anche lui che bello che bello io ti ho detto bene pugliese hai visto? ci stiamo contagiando tutti mio nonno era di Vico e quindi da quale parte insomma? sì devo fare un corso di geografia però perché mi faccio stifo da solo 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 da zotto da zotto come mi prendi in giro ma il mio modo è di parlare ma a me piace un casino tu mi vuoi parlare ti piace? mi piace un casino un? casino scusa 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 un casino scusa la lingua è importante la lingua è importante capito? perché se parlo con il mio accento con il mio z no a lui non piace no come non piace? devo cambiare vedi che a volte lo dico anch'io devo cambiare anche il mio modo di parlare no lo dico anch'io certe volte ma io boh no sto razzismo contro i nordici non è vero raga è più lei che mi prendi in giro tu schiatta ok perfetto che ora uccidiamo pure uccidiamo pure l'altra non cambiare mai il modo di parlare i sì no non lo cambierò mai tranquillo se a lì li sa bene altrimenti si cercherà un ragazzo nordico non è che lo cambi davvero vabbè ci proverò a farmi piacere no no scherzo in realtà in realtà sto contento anche per questo oh addirittura eh sì mi piace proprio come pronunci la S la O anzi la U la U proprio proprio tanto ti contagierò amore sono già su una buona strada sì ormai non ti far cambiare dalle donne no assolutamente no di solito sono poi io quella che si fa influenzare facilmente ecco infatti che capocciata quindi mi sa che diventerò io pugliese pugliese diventerò io? eh diventerò pugliese che bella cosa addirittura esatto eh vabbè allora di questa parte ho un po' paura perché sono stati un po' pericolosetti e quindi speriamo di farcela va dai ce la fai è anche pieno di mobi non ti impigliare Lara non è proprio il momento allontanati un po' good l'aspetto vieni tu vieni tu vieni tu è che arrivo eh se ne va ma guarda un po' che scostruvate vabbè vado io per un po' oh che bello ce l'abbiamo fatta qui anche andiamo sere sciamanin ce ne già ne va sì? niente vabbè io ci provo raga tanto non riuscirai non riuscirai a fare la challenge? no riuscirai a fare la challenge ma non riuscirai a farmelo dire prima della fine il problema è che non so fare neanche il sole l'etico altrimenti provavo con quello glielo facevo dire così così mi mangio le mani per non aver visto la lab di The Last of Us 2 ma sì dai tanto ci sono i video registrati anche un po' editati quindi forse anche meglio guarda perché ho sistemato meglio anche i volumi dell'audio effetti sonori hai visto? ho esperto hai visto? e tutti i consigli che mi hai dato tu ricordi? eh certo sono io che gli dico cosa fare appunto cosa fare? ecco tu quando guardi la live mi dici devi sistemare questa roba qui praticamente e io faccio tutto nell'editing infatti mi sono divertito molto oggi ti fa piacere? mi scappa l'urina e ride ogni volta che dico il tonic name lei si mette a ridere non dirò più mi scappa l'urina così ti metti a ridere mi scappa l'urina mi scappa l'urina legge tu il commento di mi scappa l'urina però leggilo in barese aspetta l'ultimo commento che hai scritto? eh quello lì proprio questo proprio questo è vero dici no poi hai scritto anche l'altro sotto mi promettete una cosa una cosa avete sentito? che bello che bello dici tutto dici tutto già rido aiuto bravo vedi la tua parte pugliese piace a tutti visto? notato? eh vabbè cambierò lingua no mantieni anche il tuo lato nordico mi raccomando che piace anche a me sabona lì tu non ci uccidere no una cosa una cosa e vabbè che cosa ok ultima parte pericolosa adesso cerchiamo di non farci toccare da quella mummia del dick ce la possiamo fare? sì tu ce la farai io lo so va bene qui non scusatemi mai il mio nome e se mai dovesse litigare fate pace con una risata nominandomi ah ecco mi scappa l'urrito cercheremo di non litigare mai no infatti infatti anzi beh con lui è difficile litigare è impossibile addirittura è impossibile sì ma come non sarò pesante no no scassa barone no no avete sentito raga sono un ragazzo perfetto cioè vabbè no vabbè è impossibile comunque sì te lo promettiamo mi scappa l'urrina penseremo al tonic neve eventualmente ci faremo una risata e poi torneremo a scannarci no scherzo dai altro colpo ummia fatti vedere avanti sta lì dai avvicinati dai dai oh finalmente devo uccidere con i tuoi pezzi vi raccomando hai vedi mio link può servire a qualcosa bravissima amora vista come c'è preso a gusto vai a qualche uso a qualche uso perfetto dai che stiamo fidando pure a quest'altro livello vai 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 dai 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 Finito il livello? Olè! Olè! Non è che ho mancato un segreto, no? Poi viene l'ansia dopo. Quattro su quattro, che bello! Che bello! Bravissimo! Quattro segreti, quattro bacini. Vabbè. Eh no, no, adesso fai fuori. Eh no, io non so contare, scusa. È che non so contare. Partiamo col terzo livello? Dai, 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 dai. Sarà alla volta buona. Hai detto che ora deve proprio lasciarci. Chi? Mi scappa l'urina. No, mi scappa l'urina, ti scappa l'urina, per questo ci lasci. Mi dispiace, mi scappa l'urina. Comunque, grazie per averci fatto compagnia. Ho iniziato a seguirti su Instagram, sia la tua pagina che il tuo profilo. Ma grazie mille, gentilissimo. Grazie mille per la compagnia, allora. Ci vi chiamo alla prossima live. Naturalmente vi tornerò aggiornati per quando sarà. Ma spero che non sia Tomb Raider 1 Gold, perché vorrebbe dire che ce l'ho fatta finalmente. E in quel caso partiamo con Tomb Raider 2? Sì. Se siete tutti d'accordo, partiamo con Tomb Raider 2. Challenge, ovviamente. Challenge. Mi sembra giusto, ma guarda, guarda, guarda. Mi vuoi male tu, mi vuoi male. Dai, tutte le volte che ci gioco, ormai... Con il vero profilo mio, no? Con il nickname. Come ti chiami? Così mi ricordo. Vabbè, perché non è che mi seguo in tanti, quindi non sarà difficile. Vabbè, se vuoi io so andare a vedere chi è l'ultima persona. Pure. Ah, certo, io tengo d'occhio tutto. Ah. È un pastolkio questa qui. Sono gelosa. Ah, Marco, quindi. Gelosa, gelosa. Gelosa, sì. Gelosa. 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 Ma come pensate tranquilla, amore? Lo so, lo so. Ti fidi di me? Sì, ti fido di te. Di a tutti la percentuale con la quale ti fidi. 99,9. C'è sempre quel poco che... Guarda quest'altro nickname. Vabbè, dopo mi scappa l'urina. Quante volte si fa insieme, scusa. Dopo che fai l'urina, poi... Fa anche una cacata. Eh, infatti. Vabbè, quindi sono uscito una cacata. Benvenuta, sono uscito una cacata. Ma che era un altro profilo di mi scappa l'urina? Eh, potrebbe essere. Eh, vabbè, dai. No, no, adesso. La natura è voluta così, dai. È il fratello, ecco, ecco. C'è parentela. Mi sono uscito una cacata. Sto male. Non c'entra uno, lo giuro. Però sarebbe stata una coppia perfetta. Sì, sì, infatti. Dopo la pipì uno fa subito la cacca anche. Cioè, quando la natura proprio è tua amica. Sì, sì. Quando chiama più al profondo. Sì, sì, che bello, che bello. Allora... Ti dà sto distanzione fino in fonda, però... Sì, sì. Questo livello fa paura, per la poca energia che ci rimane dopo. L'altra volta sta morta proprio qui, questo livello. Questa volta ce la faremo qui. Certo. Altrimenti basta, mi arrendo. Non la faccio più, saccialle. Passi direttamente al 2. Ecco qua. Allora, lasciamoci cadere di qua. Facciamoci pochi danni, possibilmente. No, Iole dice no. Dai, Iole, non vi siete ancora a roti maroni? Cosa gioco? Beh, io no. Vabbè, lo porterò fino allo stendimento, dai. Fino ad uscirci. A me basta vedere. Avete visto che è dolce? Patato. Limba. Lei mi chiama patato comunque, quindi da oggi sarò patato gamer. No, se faccio il canale faccio io poi i punti patata. I punti patata, che bella. Quindi preparatemi. Se dovessi fare il canale. Ok, questo è morto finalmente. I punti patata, che bello. Mettiamo le patatine. Metti la mia faccia, patato. Allora nessuno vorrà guadagnare quei punti. Punti patata sembra un po' ambigui. Vabbè. Allora metto punti patato. Punti patato. Con la tua faccia. Con la mia faccia. morta quest'altra. Bravo, 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 bravo. E ancora arriva questo qui in primo piano. Guarda, guarda. È comunque più bello di me. Ho le stavette. No, tu sei più bello. Se faccio io così, se lo fa la mummia, è più fotogenica. Foto igienica. Foto igienica. Carta igienica. Aspera. Dai, 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 dai. Ce la possiamo fare stavolta. Me lo sento. È una volta buona. Come on. Tuberogamer. Facciamo come quello di tuoi stori. Mi piace, mi piace. Tuberogamer. Tuberogamer. Faccio io. Cambiamo l'icne. No, io faccio Tuberogamer. Tuberogamer. Al massimo potresti mettere la faccia di Isis sulla patatina Wacos. E diventa un patato. Vabbè, dai. Va benissimo. Patato. Il patato. Non il patato. Tu c'è il mio patato. Sì, il tuo patato. Ogni volta mi viene in mente il mister patito di tuoi stori, comunque. Il patatone. Nei chi? Io non piace il patatone. Chi? Tuberogamer. Tuberogamer è bello, comunque. Me la segno, eh, cioè. Perfetto, anche questo. Tuberogamer. Ciao a tutti da Tuberogamer, 89. No, 98 in questo caso. 98. Faccio il mio canale io. Ah, va bene. Tu ce l'hai il tuo e io mi faccio il mio. E mi vuole fregare anche il tuo. Eh no. No, tu mi aiuti a me. Tu mi aiuti a me? Tu mi aiuti. Eh, poi si la mette di così. Tu mi aiuti a me. Eh, tu mi aiuti a me. Che non si dice. Si dice? A me a me non si dice. No, ho detto tu mi aiuti a me. Eh, tu mi aiuti. No, hai detto un orf che hai detto me, vabbè, poi l'altro non c'è a sé. Tu mi aiuti a me. E ti andiamo pure giunto, questo. Non che a me freghi niente, però. Ma l'hai detto apposta. Basta, basta. Portarai un bel Resident Evil? Dice a te di dire... Si. Ma comunque sicuramente, si. Devo portare anche il Resident Evil. Mi mancano i Resident Evil. Stando a rigiocare. Si, ma dato che a me fa un paura, allora lo costringo a giocare Tomb Raider. Il Tomb Raider. Ma basta che pronuncia. Il Tomb Raider. Il Tomb Raider. Tomb Raider. Il Tomb Raider. Tomb Raider. No, facciamo Tomb Raider. Tomb Raider. È rossa, italianizzato così. La versione è porno è Tomb Raider. Mi devi dire qualcosa? No. Sai chi lo sta giocando adesso Resident Evil? È vero, ci siamo... Come si dice? Mi ha fatto la lab lo stesso giorno, praticamente. Però io non avendo più possibilità dopo, Abbiamo dovuto fare lo stesso, per forza. Hai detto dopo. Dopo. No. Hai detto dopo. Hai detto con la voca più aperta. Ma sì. No. Tu sei una cattiva ragazza. Mi stavi contagiando mare. Ma... Dopo, 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 dopo. No, vi devo allenare. Dopo, 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 dopo. Dilo tu. Dopo. Dopo. Ecco. Ti abbiamo usato qua, vado gli Uzi. Che Uzi svezzissimo. Ecco dove si è morto l'altra volta. Ma stavolta è più energia, pippola, di una mummia. Mirami. Cioè, mirala. No, mirami. Mirami. Voglio farmi uccidere. Non mi più uccidere. Avanti. Questa volta ti faccio le chiappe e le strisce. Chi è? Sei morta, eh? Brutta pippona. Ok, adesso sto salto e mi fa paura, anche, sinceramente. Raga, niente di spaventare i canali. No, vabbè, non ti preoccupare, Paolo. Tanto diciamo che abbiamo più o meno di se si farlo. Allora, vediamo di evitare queste trappole. Come arrivano altre mummie. Non mi fare danni. Questo è il punto dove sei morto l'altra volta. Sì, esatto. Avevo pochissime energie, perché una mummia mi ha esplosso in faccia, praticamente. Allora, come la miri? A questa. Vabbè, quella è lontana. Speravo questa qui. Brava, brava. Oh, che bello quando venite andate da quella parte. Che brava, che brava. Bravissime mummie. Bravissime. Che bello. Come mi prendi in giro lei, guardate. Ah, faccio quello che fai tu. No, non è vero. Io non l'ho mai fatto così a te. Bugiardo. Sei bugiardo. No, non sono bugiardo. Me lo fai sempre. No, non è vero. Io non l'ho mai fatto. Come mi scopiazza, è incredibile. Comunque ora devo proprio andare. Vuoi leggere il tuo avore? Che io qua devo controllare un po' l'ossigeno. Allora, dice, comunque ora devo proprio andare. Proprio. Brava. Il fatto che non me ne sia andato prima fa capire che mi diverto con voi. Ma grazie bene, mi scappa l'urino, sei gentilissima. Allora, ti salutiamo e ci becchiamo alla prossima live. Ciao, ciao. Ossigeno, ossigeno. Buon game e buona live. Ma grazie mille, mi scappa l'urina. E non l'urinare troppo, mi raccomando. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E facciamo come i Teletubbies. Ciao, ciao. Teletubbies. Teletubbies. Ciao, ciao. Tante coccole. Tante coccole. Mi sto strappando anche i capelli intanto, cioè. Perché? Perché ti strappi i capelli? Ma io boh. No, no, soprattutto voi che state in live. In effetti, poi ci tocca alzarci, fare pipì. No, no, è scocciante poi. Beh, io posso andare. No, tu non puoi. Sei ospita con me, quindi. Uffa. Sì, ma tu non me l'hai fatto firmare nel contratto. Che ci vuoi fare? Quindi posso. No, non puoi. Altrimenti poi non vale più la challenge. Perché l'ospite è andato via, quindi. E se mi scappa l'urino? Addosso, te la fai addosso, senza problemi. Poi ti fai il bidet, questo è un problema. Per fortuna ce l'abbiamo. Eh. Perfetto. Bravissimo. Ok, siamo arrivando alla fine di quest'altro livello. Che bello, che bello. Vai, 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 vai. Ci rimane l'ultimo. Tanto so già che schiatterò in quell'area tutta piena di bommie. Già lo so, già lo so. Salto del leak, non mi è riuscito. Ok. Ritentiamo. L'importante è non schiattare. Che c'è? Mi vuoi schiaffeggiare? No. Perché sono buona. Grazie. Anzi, sono buona. Buona? Sei buona. Sono buona. Dai, se vuoi riuscirci adesso. Altrimenti, la challenge se ne va tutta qui. Quindi, un bel saltino così. 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 Dai, che questa è buona. Che bello, ce l'abbiamo fatta. Non si dice... Eh, Iole. Conosco bene la Swig. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Anche quest'altro livello è archiviato. Sì. Bravissimo. Grazie, amore. Eccoci qua. Due segreti su due. Ce l'abbiamo fatta. Due segreti su due, quindi. Due bacini. Ah, però ho fatto così, con i quattro. Due extra, dai. Che sarà mai. Ma sì, se li mi rifiuti. Ma sì, grazie, amore. Grazie. Allora, prendiamoci se emulsion, intanto. Ultimo livello. Intanto io mi sfogo sul tuo braccio. Cos'è che non è di stress? Sì, ho l'ansia adesso. Fa un po' da passaggio, però. Bene. Allora, te lo faccio qua. Allora, questa parte è un po' bastarda. Quindi, considerando che non mi sono allenato. Ce la farai. Ok, adesso. Dovevo andare di qua. E correre via, dalla parte via, 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 via. Non mi schiacciate, please, mi raccomando. Io mi scanzo, anche se non arriva niente da qui. Non si sa mai. Magari arriva da quello. Magari cambia, sì. Ecco qua, posso correre tranquillamente. Sì, perché tanto ora scende questo. Poi me ne vado di qua. C'è quell'effetto. Che ti fa credere schiacciato, invece no. Poi. Poi. Adesso arrivano... Adesso arriva un pirlone. Esattamente. Ok, boh. Non ricordavo precisamente qua, però mi ricordavo qua. E schiatta. Non ci farete male. Perfetto, così. Bravo, bravo. Bonus, bonus. Perfetto. Anche quest'area... Andata. Andata. Grande, grande. Sei musica che ti mettono ancora più ansia, poi. Queste porte fanno paura ogni volta che si fa la challenge. Ma sono delle cacchiate queste porte, dai, onestamente. Ah, sì. Respiriamo. Nanara, nanara, nanara. Nananananananananana. Tutto liscio per il momento. La mettono una musica un po' rilassante. Come l'olio, l'olio, l'olio. Mhm. Non ti assardare? Con quello sei più bastardo, vado di usi. Schiatta, 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 schiatta. Non ci farei danni. Non ci farei danni, please. Non ci farei danni. Allontanati. Comunque le tette di dare in questo gioco sono troppo triangolari. Poi anche i cacolacci di potere usa. E in effetti... Ecco come sono andate le prime figure geometriche. Mhm. Ok, adesso questo segreto... Anche un po' bastardo. Non facciamoci prendere dal panico, perché l'ho sempre fatto anche correndo. Piano. Mi fa venire l'ansia. È venuto un colpo anche a me. Guarda che poi non ti dico la sua gilina. C'è già la macchina, Vanille? No. Prima finisci. C'è già la macchina, già le si mescette. Prima fai. E poi te lo dico. E' un bel premio. Sì. Dai che non ci manca tantissimo. Ce la possiamo fare davvero stavolta. Se superiamo pure quell'area di dopo... Ce la potremmo fare. Forse, forse, dai. No, ce la fai. Ma sì, è meglio dire forse. No, no. Andrà bene, andrà bene. Non ti chiude la porta. Aspetta un secondino. Aspetta, 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 aspetta. Ma non ti puoi chiudere. Beh, tranquilla. Devo saltare di no. Gli usi l'avevo già presa, mi pare. Ah, no. Avevo messo le volume di nuovo. Non ricordo. Anch'io mi dimentico. Prendo le armi e mi dimentico. Questa è lo scommetto che si baggerà. Mi è già successo, per cui non mi stupirebbe. Schiatta, schiatta, schiatta. E non ci farei danni, possibilmente. Ok. Bravissima, vattene da qui. Bravissima, allontanati. Oh, che bello. Sì, guarda di là, guarda di là. Ma guarda quanto è bravo quella moglie. Ma guarda un po'. Oh. Perché quella volta che si è baggata e più mi ha fatto cadere. Ma. Non vogliamo parlare. Che nervoso. Mamma mia. Tutte cose che succedono poi nelle challenge, naturalmente. C'è anche lo stronzone qui. Questo cerchiamo di insobborlo. Bye bye. Mi è andato anche fin troppo bene qui. Questo è un punto in cui eri morto. È bruttissimo, è vero. È una parte molto, molto pericolosa questa. È molto facile morire. Non è. Mi sapevi dire che senza allenamento ce la facciamo. Probabilmente sì. Ecco, ora l'ultima area pericolosa praticamente. Sappiamo qual è. Andiamo quello là. E anche se è bastardo che ci lancia le polpette piccanti. Via, via, via. Beh, speriamo che si bug ora, che se ne vada di là. Altrimenti non ce la possiamo fare. Ce ne sei andato? Dicili sì, please. Anzi, diciili sì, please. No, ancora no. Guarda come lancia le polpette, guarda. Ma che vuoi? Che ci lanci polpette. Dai, te ne sei andata adesso? Ancora? Quando te ne vai? Poi quando ci giaccano gli altri è subito puggato. Oh, finalmente. Possiamo sparargli ora? Dai, dai, dai. Colpisci, colpisci, colpisci. Ok, perfetto. Andato. Contatto di tuffa laterale. Ci sta... Beh, meglio comunque i coltellini che non le polpette. Ma guardate questo, guardate. Infatti. Che comportazione. Altra area ancora un po' pericolosetta. Perché se ci colpiscono, lo so, cacchi. No, dai, dai, andrà bene. Generalmente è sempre andata bene. Vediamo oggi. Ah, siamo messi ancora bene a colpi, comunque. Ecco, vediamo di far fuori quest'altra pure. Nanananananan. Olè. Olè, andate pure queste. Bravo, amore, bravo. Grazie, amore mio. Non si mette sempre di più, però, eh. Eh, lo so, ma calmo. Qui si avvicina alla fine. Calmo, 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 che ce la fai, ce la fai, ce la fai. Io mi fido di te. Grazie, amore. Nanananan. Brava, così. Mi sembrava volesse cadere, invece. Via, via, andarsene, andarsene. Non abbiamo tempo per tutte quelle bobie lì inutili. Andiamocene di qua. Verso la fine del gioco. Cavolo, l'area finale è tremenda. Vabbè, prendiamo il fucile. Mettino. Facciamo attenzione. I want a code. Ecco, quello lo dice anche mio padre. Ecco. Che cosa che significa? Attento a quello. I want a code. Ecco. Eh, quello lì me lo dice anche... No, no, vieni qui, dai. 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 Fai il bravo. Dai, fatti vedere, please. Dai, tanto lo sappiamo che torri. Dai, dai, dai. Dai, dai, gli fatti vedere. Ma è una gioia. Precisi tanto qua di rivenire, dai. Ecco. Eccolo là. Fuori anche questo. E' bella la testa che volevi. Bella. L'abbiamo fatta a pezzi, nel vero senso della parola, questa. E ora, area finale. Se ci riesce questa, è fatta. A posto. Cazzo. Ce la farai, ce la farai, ce la farai. Dai, dai, ce la possiamo fare, io, le? Per me sì. Prendiamoci se è munizione intanto. Meglio qualcuno in più. Quanto scommettiamo che mi fanno cadere in una di queste lave qui? Non dirlo. Eh. Conosco la sfiga. Shhh. Che è successo? Beh. Vabbè, dai, ci proviamo. Concentra. Tu, schiatti. E anche malamente. No. Ti ti gherata qualcun'altra? Sì. Tu, schiatti, ancora peggio. Andata. Qualcun'altra qui? No. No. E adesso? No. No. Voglio proprio far rischiare. Mmh. No, no. Schiatta, non te ne andare. Ok. E schiatta anche tu. Tu, schiatti, peggio di tutto. Avanti. Quindi ce ne restano ancora tre? Sì. Oh, volevo aiuto. Ok, quando vi trigger... Ah, ecco. Triggerate. Oh, non te ne andare. Vabbè. Vabbè. Sappiamo che ce ne resta una fuori. Ce ne restano due fuori. È rimasta una qua. Vabbè. Vabbè. Diciamo che va bene, va. Aiuto. Come on, come on. Ecco, fai una e ce ne resta un'altra. Ti vedo. Non ti nascondere sempre. Andata. Rimane l'ultima, allora. Sì. Quando è che... Per triggerarla. Che ansia. Perfetto. Tiè. Andiamo. C'era. Già, mi sto sudando le mani. Non sto giocando. Verso la fine del livello. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, non ci schiamo. Dai. Ah, intanto, leggendo la donazione, Kent Croft di 10 euro, siccome me l'ha fatta mentre non ero in live, lo ringrazio comunque per quella donazione. Grazie mille, Kent. Se guarderai questo video, almeno ti ringrazio pubblicamente. Meglio tardi che mai, come si dice. È dall'anno scorso che me l'ha fatta quella donazione, quindi. Mi sembra giusto. Yeah, dato che Lily porta bene le live, la vogliamo in tutte le prossime. Ecco, sentito? Eh. Ti vogliono, ti vogliono, e ti voglio anch'io. Ma vabbè, dai, allora vedrò di essere. Sì, la vogliamo, la vogliamo tutti. Eccoci qua. Verso fine livello, verso fine livello, verso fine livello. Ecco, adesso inizio a preoccuparmi perché sto da dire lo scioglilingua. Eh, infatti. No. L'ho fatto per lo scioglilingua, raga. L'ho fatto solo per quello, perché gli ho promesso lo scioglilingua e i bacini. Visto? Bacini e scioglilingua. No, vabbè. Il segreto l'ho preso, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ciao, l'è giustita. Però qui ti devo dare solo un bacio, perché è solo un segreto. Facciamo un bacio a lungo, qui. Ce l'abbiamo fatta, raga. Ce l'abbiamo fatta. Bravissima. No, finalmente ce l'abbiamo fatta. Questa ragazza l'hai portata bene, assolutamente. Mi è risa migliore alla mia vita. E anche la mia giocata qui. Visto. Finalmente è fatto. Tombra dell'Uno, via dei maroni. Tie, 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 tie. Aiuto. È troppo contento. Mi ha fatto dannare, mi ha fatto dannare questo gioco. Bravissima. Allora, tocca a te, amore, lo sciogli lingua. Ok. No, vabbè, ho l'ansia. Dai, c'è un genna ma sci, c'è un manil. Allora, c'è un genna ma sci, c'è un genna ma sci, c'è un genna sim shen. No, che bravo, amore. Bravissimo. Lo dice a media di merito, hai visto? Cosa mi fa fare? Ma non ne vedo, non faccio fare niente. L'hai promesso tu? Diciamo che tu mi hai costretto. No, non ne vedo. Bravissimo, posato. Grazie, amore. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Adesso tocca a Tomb Raider 2. Hai visto come te lo chiedono? Eh sì, certo. No, vabbè, ora. Ti senti pronta per giocare a Tomb Raider 2? La grande buraglia. Farò delle figure di M. No, non fare nessuna figure di M. Voi le vorrete bene allo stesso se faccio queste figure di M, raga. Io dico io sì, ti vogliono bere ugualmente. No, no, dai, mi senti in ansia. No. Non ti senti in ansia. Eh, sono troppo contenta che ce l'hai fatta. Chi, io. Chi, io. Ma chi? Ok, quindi possiamo chiudere i capelli. I miei capelli. Possiamo chiudere Tomb Raider 2. Tomb Raider 1. E' emozionato. E' emozionato. Cioè, sono riuscito a andare a challenge. C'è l'amore mio accanto a me. Come faccio a non essere emozionato? E' impossibile. Bravissimo. Comunque, Angelo, finalmente la challenge è completata. Che bello. Che bello. Visto. Fermiamo sto timer. Dai, ti regalo una pizza. Davvero? Eh, perché c'hai le barri. Ti regalerò una pizza. Ah, perché una rosa. Che mi fa fare delle rose. Ci regalano le pizza. Quindi, uscire dal gioco. Dai, dai. Esci, esci. Non funziona più controllo. Si è emozionato anche. Vuoi controllo? Ripigliati. Oh, ecco. Exit game. Arrivederci. Tu vuoi vedere uno? Oh, ecco, ecco, ecco.